Grazie dopo questo passaggio. Al via la 725esima edizione della perdonanza celestiniana, con il passaggio di consegne tra le figure più importanti del corteo del 2018 a quelle del 2019. In una piccola cerimonia il sindaco Pierluigi Biondi ha consegnato il ramo d'ulivo, con il quale il Cardinal Bertello aprirà la Porta Santa di Colle Maggio al giovin signore Federico Vittorini. Paola Protopapa, campionessa paralimpica, dama della bolla dell'edizione passata, ha consegnato invece l'astuccio della bolla che sarà portata in corteo il prossimo 28 agosto a Sara Luce Cruciani, dama della bolla dell'edizione del decennale. Un passaggio pieno di significati. Per me partecipare alla perdonanza mi ha suscitato moltissime emozioni. Poi oggi ancora di più dopo comunque aver incontrato Paola e aver fatto appunto il passaggio della bolla effettivamente proprio da lei è stato anche un onore perché lei comunque nello scorso anno ha rappresentato la città, cosa che adesso invece dovrei fare io, quindi spero comunque di essere all'altezza del compito.